Alberto Lionello, coordinatore della Commissione Beni Culturali. È una commissione di nuova istituzione e quindi noi con le prime riunioni abbiamo cercato di mettere a punto quelli sono gli obiettivi della nostra commissione. Uno degli obiettivi è quello sicuramente di incentivare il recupero del costruito storico e l'altro obiettivo è quello di trovare e ricercare quali sono le strategie più opportune per inserire nel bene culturale le tecnologie innovative per poter dare al bene culturale una sua fruizione. Qual è il programma che abbiamo per il 2024? Abbiamo in programma degli incontri di cantiere che si sviluppano in una prima parte nella quale c'è una visita a un cantiere e in una seconda parte invece di dibattito nella quale escono e sono uscite nell'anno precedente delle problematiche relative al restauro che poi dovremmo raccogliere in un quaderno del restauro che dovrebbe essere pubblicato diciamo nei prossimi anni.